Dopo le elezioni ebbi una telefonata da parte del capo delle pubbliche relazioni del Movimento 5 Stelle che mi diceva che loro avevano sette deputati nella commissione lavoro. Questi sette deputati naturalmente erano persone che non si erano interessate di sociologia del lavoro, di economia del lavoro, eccetera, prima. Erano, tra l'altro, mi pare, quattro operai, una caposala e qualcosa del genere. Se io ero disposto a fare un piccolo seminario per avviarli allo studio della sociologia del lavoro, cosa che io feci immediatamente, l'avrei fatto per chiunque me l'avesse chiesto perché significava migliorare praticamente le attività connesse al creare le leggi. Feci questo seminario e poi finì tutto lì. Nel maggio scorso due di questi sette deputati, giovanissimi, uno di Brescia e l'altro di Perugia, mi contattarono e mi dissero noi per fare le leggi nella nostra commissione abbiamo bisogno di capire come evolve il lavoro futuro. È possibile fare una ricerca in questo genere? Sì, senza altro si può fare, ci sono dei metodi, se mi date la totale libertà di scegliere io gli esperti, eccetera, si può fare senza altro. Ho fatto questa ricerca e finita la ricerca, l'ho consegnata in settembre, mi chiamò Grillo, che non conoscevo, e mi disse senta professore ho letto questa ricerca che lei ha fatto, sono alcuni punti che però io non sono del mestiere, mi piacerebbe che lei mi spiegasse. Così ci siamo incontrati, c'erano lui e Casaleggio, e aveva stato il Casaleggio figlio perché adesso, e gli ho illustrato i vari passaggi più tecnici, diciamo così. E così ti hanno invitato a Ivrea questa... No, c'è un altro passaggio, loro poi dopo hanno voluto fare con il metodo che avevo scelto, implicava questionari mandati a 11 grandi esperti di lavoro, da Tiraboschi a Stagliano, eccetera, e tutti che l'hanno fatto, diciamo, senza sapere neppure chi era il committente, perché il metodo vuole che nessuno di loro deve sapere chi sono tutti gli altri. E loro chiesero perché non fate comunque un commegno al quale possono assistere i nostri e tutti quelli che vogliono. E così organizziamo un commegno in cui io posi come condizione che però i politici, se volevano essere presenti, lo fossero, ma comunque senza intervenire, soltanto noi tecnici. E così abbiamo fatto un commegno molto bello, l'hanno partecipato 600 persone, deputati di vari partiti, perché si teniva nella sala dei gruppi parlamentari, e insomma è andata molto bene. Poi dopo, a qualche mese, mi ha telefonato Casaleggio dicendomi che c'era questa giornata sul futuro e se potevo partecipare con una relazione di 30 minuti sul futuro del lavoro. Cosa che io ho detto di sì e ho fatto. Grazie. Grazie.